L'evento più inaspettato dell'anno a quanto pare è successo Sfere Basta risposta Inoki Era infatti accaduto che Inoki si era scagliato contro Sfere Basta e Draftgold Accusandoli dell'aver procurato la morte di due ragazzi A causa appunto della Purple Drunk, quindi codeina mischiata con la Sprite Che a Terni, questo 15enne e quest'altro 16enne Hanno provato a fare ma purtroppo il loro spacciatore gli è venuto del metadone e sono morti nel tentativo Inoki ovviamente tutta questa cultura della Purple Drunk l'ha vista da Sfere Basta, Draftgold e altri Ma principalmente a loro due E mentre Draftgold continua a mostrare le stories di Scarpe dicendo gang e scare e robe simili Sfere, nonostante comunque il dissing provenga da un personaggio che ormai ha dato il suo Ha voluto comunque rispondere Andando a dare la sua motivazione sull'accaduto E spiegando perché secondo lui Inoki si sbaglia E non è colpa sua se è successa questa catastrofe Si era già espresso in Mademoiselle riguardo questo tema Però ha voluto comunque ricalcare la mano con delle stories perché la situazione è veramente pesante Dato che i ragazzi erano veramente giovanissimi Non aggiungo altro, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo in un prossimo video in linea allo studio